Ex convento annesso alla chiesa di Sant'Antonio a Barletta, un luogo storico di culto di cui ora potrà beneficiare la comunità tutta. Difatti tra l'arcivescovo della diocesi di Trani Barletta Biceglie, Monsignor Giovanni Battista Picchieri ed il primo cittadino della Civitas Maria Pasquale Cascella, sottoscritta la convenzione che garantisce la concessione per 50 anni dell'ex convento alla Curia e che fa seguito all'accordo maturato nel 2009. Ebbene, il Comune si obbliga alla concessione della parte di mobile di sua proprietà, di contro l'arci diocesi provvederà nei prossimi 50 anni al restauro conservativo agli interventi di ristrutturazione ed edilizia necessari. Un accordo quello maturato che permetterà la valorizzazione delle testimonianze artistiche della comunità civica ed ecclesiale di Barletta. In progetto un museo diocesano e uno di archeologia marina con annesso al laboratorio, una mediateca e non solo. Abbiamo innanzitutto voluto dare al Tempio un significato più ampio a quello che ha il culto, con attività culturali che annunciano il Vangelo a tutti senza alcuna chiusura. Per cui l'abbiamo destinato a sala di comunità, viene così chiamata, ma rimane sempre anche un luogo di culto. I locali annessi, che sono, è chiaro, di proprietà non ecclesiastica, ma del Comune di Barletta, d'intesa con il Sindaco abbiamo voluto destinarli al museo, museo ecclesiastico e civico insieme. Proprio per dare un recupero, non soltanto alle strutture, ma anche di forte significato, questi luoghi furono costruiti per il popolo, i luoghi annessi al Tempio erano occupati da una comunità religiosa. Ed è bene che conservino questa destinazione. Un ambizioso progetto, questo, che ha registrato il finanziamento della Regione Puglia per complessivi 800.000 euro e cofinanziato dal Comune di Barletta, con risorse del bilancio per un importo pari a circa 223.835 euro. Un accordo maturato tra amministrazione e diogesi che porterà quindi al recupero di un importante patrimonio cittadino. La Convenzione consiste nel dare alla diocesi la possibilità di utilizzare quei locali che sono di proprietà del Comune per questo museo che va a completare la rete dei musei diocesani. Ce n'è anche Trani, ce n'è a Biceia, quindi ci sarà anche a Barletta. Ma al tempo stesso ci sarà anche un museo civico, questo è importante, l'incontro tra l'esperienza.